Buongiorno, sono alla prova del secondo programma dei concerti che l'istituzione Sinfonica Abruzzese ha dedicato per il Festival del Musa Animal 2019. Personalmente sono molto contento perché per me è un ritorno, mi pare che sia stato il 90 che ho avuto già un incontro con questa orchestra. Devo ringraziare Stefano Taglietti per questa iniziativa, al di là della commissione di cui sono stato oggetto, devo ringraziarlo per l'iniziativa in sé, che mi sembra una cosa importante, uno per incentivare chi è già professionista da anni a continuare perché le occasioni sono sempre più rare e per i giovani che si confrontano con la realtà di un'esecuzione professionale di alto profilo e quindi in sé l'occasione mi sembra preziosa. Ringraziare anche il direttore musicale Marco Monesco che in questo caso è anche per me un'occasione speciale perché è stato mio studente. quindi verificare che la fatica e il lavoro che si è fatto insieme poi dà i suoi frutti, no? In sé, ripeto, a livello personale è qualcosa di molto speciale dal punto di vista anche effettivo. L'orchestra, ovviamente, è una realtà ormai inutile parlarne, consolidatissima, noto da questa prova che sto sentendo a quello che era l'orchestra anni fa, quando sono stato la prima volta, sicuramente una consapevolezza molto, molto più alta di quello che sono i problemi della musica attuale. Allora era veramente difficile perché non erano abituati a suonare questo tipo di musica. Evidentemente l'iniziativa di questo Musanima serve anche a questo, a rendere partecipi i musicisti in generale di un'esperienza nuova, diversa.